Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo non video. Capite una volta all'anno che faccio un non video, c'è un video in cui dico che non ho fatto in tempo registrare il video. Mi dispiace, purtroppo è così, mi raccolgo di essere troppo chiaro, troppo scuro, scusate. Non si schiarisce più di così, va bene, resterò un po' buio io, un po' illuminata di troppo la stanza. Questo video ho preso in mano con la fotocamera solo per dirvi che sto studiando, sto ancora studiando, sono le 11 e un quarto di sera, di sabato. Il video in teoria dovrebbe uscire sabato a luna, vi ho detto che per il periodo di esami escono domenica a luna, però non ce la faccio registrare neanche domenica. dovrà uscire i sensori di arduino, ma non riuscirà a uscire i sensori di arduino. Quindi mi dispiace, ma essenzialmente questa settimana il video slitta a un tempo indefinito. Non viene cancellato, slitta solo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che il prima possibile lo recupero. Quindi se adesso non è uscito il video dei sensori di arduino, non è che aspetto sabato prossimo a farlo uscire e sarà il video di sabato prossimo. Cercherò di pubblicarlo durante la settimana e sarà il prima possibile, insomma, il video dei sensori di arduino. E sabato prossimo invece avremo un video diverso, extra, insomma, un video in più. Video che sabato prossimo dovrebbe essere rubber ducky. Voglio riuscire a portarvi la rubber ducky, come costruirla con arduino. Essenzialmente è solo un video. Se non metto parole brutte tipo hacking dentro... non so perché sto continuando a camminare avanti e indietro. Se non metto parole brutte tipo hacking nel titolo non dovrebbe succedere casini, in più comunque un solo video. Quindi voglio provare a costruirvi la rubber ducky con arduino per sabato prossimo. Dovrei riuscire a fare in tempo. Spero. Lo farò qualche notte, tipo dalle 2 alle 4 di notte dovrei avere qualche slot libero, almeno uno durante la settimana. Video dei sensori di arduino uscirà il prima possibile. Perdonatemi, oggi è domenica, buona domenica. Non è uscito il video, mi dispiace. Detto questo, io torno a studiare perché questa settimana ho 3 esami. 3, su serio. Quindi anche il video della rubber ducky spero di riuscire a farlo in tempo. E anche se sei arduino... non lo so, sto continuando a ripetere le stesse cose da 2 minuti. E torno... torno... perché in altri 20 minuti li faccio. Dai, arrivo a mezzanotte o meno un quarto. E ci vediamo il prima possibile. Ciao! Ciao!